Sintesi previsionale per lunedì 9 ottobre 2023 e successivi due giorni. L'alta pressione di stampo subtropicale raggiungerà la sua massima estensione inglobando direttamente anche le nostre regioni meridionali. Il tutto sarà accompagnato da termiche di stampo estivo in quota che si tradurranno in temperature al suolo che in alcune conche interne e più riparate potrebbero toccare o superare lievemente i 30 gradi Celsius. I cieli saranno ovunque sereni o poco nuvolosi, salvo locali stratificazioni o blande nubi pomeridiane tra Calabria e Sicilia orientale. Venti fino a moderati. Successivi due giorni. Permarrà indisturbato sulle nostre zone l'anticiclone di matrice subtropicale, contraddistinto da termiche in quota di stampo prettamente estivo che garantiranno temperature al suolo di molto al di sopra delle medie nei valori massimi. Attese punte attorno a di 30 gradi Celsius nelle vallate interne più riparate. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con al più il passaggio di qualche modesta stratificazione o la presenza di locali nubi pomeridiane sui rilievi. Venti deboli. Se vuoi ricevere le previsioni aggiornate, iscriviti e attiva la campanella.